Posso soffiare? Tanti auguri a te! Il desiderio, il desiderio! Desiderio è soggetto a esclusioni, il resort non sa in più. No, non mi parlo. Secondo me ha detto che voglio sparire dal Laos. Non fa il culo di questi giorni come oggi. E appunto, volete fare un commento sulla giornata di oggi? È stato il miglior compleanno che abbiamo organizzato io e Teo nell'ultima decca. Grazie ai coordinatori, vorrei ringraziare i coordinatori per questo giorno. Allora, io vorrei ringraziare Simona per la prima valanga e Alessia per la seconda. Le slavine sono state benedibili. Le slavine erano credibili. Il cambio di mezzo, ragazzi, ne è buzziato. I ponti crollati, abbiamo fatto una fatica. Matteo lo ringraziamo per il motorello. Io guidavo il cota, il braccio meccanico. Travestito da vietnamita e... No, vabbè, con Ivan... Io ho fatto una fatica più terribile a portare il Mimo per guidare. Il Mimo non vorremmo venire. Grazie al Mimo, bravo. Inoltre, inoltre, è qualcosa che Mimo sa fare veramente bene. Grazie, Mimo, per il mimo. Grazie. Ma ricordiamo sempre che il Mimo deve morire. Il Mimo scomperà dentro il furgone. Lui... Lui... Lui è stato in l'ausa. Esatto. Minocciato. Io vede, sei un vecchiardo. Vuoi dire qualcosa? La mia età è quella che gli vanno abbassate. Lui andiamo con un Mimo tutto insieme ai Playmore. Lingua, lingua. Datevi un bacino, dai, dai. Non la lingua. Oh, che schifo! È dolcissimo. Ma non avete cantato la canzoncina, zio Pied? Beh, me l'ha cantata con me. Happy birthday to you.